Io sono ridotto così con Peppa Pig, te hai 40 anni, mi sembra ieri che eravamo due pischelli, belli come il sole, single. Comunque siamo agli sgoccioli e quindi questo è un traguardo per te abbastanza importante. Io non so mai che dire quando ci sono questi auguri social però ti faccio tanti auguri e niente, ti voglio bene amico mio.